Si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia della estrazione delle carriere. Ad aprire la giostra toccherà a Porta Crucifera, secondo posto a Santo Spirito, terzo a Porta Sant'Andrea e quarto a Porta del Foro. Grande partecipazione di pubblico nonostante le misure di sicurezza imposte dalla pandemia. Ascoltiamo il commento dell'assessore Simone Chierici del Comune di Arezzo. Sì, diciamo che stamattina è andato tutto bene, ora è chiaro che il banco di prova è domenica prossima, quindi questa era una mini prova, però diciamo che i quartieri si sono responsabilizzati, stanno dando un grosso supporto al mantenimento delle condizioni di sicurezza, quindi confidiamo molto anche sul loro apporto. Sì, tanta gente, ma avevamo visto già dalla prelazione per i biglietti che in 13 minuti abbiamo avuto 200 prelazioni, cioè quelle massime che potevamo soddisfare con quella prima ondata, quindi c'è voglia di giostra evidentemente, la gente interessata voglia di ripartire, sono due anni sostanzialmente che non c'è una giostra e quindi ci aspettavamo questa risposta. Per voi adesso inizia una settimana molto intensa, di grande lavoro, c'è da organizzare una giostra in grande sicurezza. Sì, diciamo che più che inizia la settimana, continua la settimana, perché già da tempo che dietro la giostra c'è tanto movimento e tanto lavoro, a partire dagli uffici dell'ufficio giostra, dalla fondazione, dal consigliere Pertini, quindi è impegnativo mettere in piedi una giostra in queste condizioni e anche con tempi ristretti. Per ora sta andando tutto bene, incrociamo le dita e aspettiamo domenica sera.